Siamo arrabbiati perché non è stato fatto nulla, non in tempo misurabile in mese, ma in anni. È terrificante perché se penso che la scuola è stata dichiarata non idonea nel giro di un giorno, ho i brividi perché mi poteva crollare un muro addosso. Io vado a scuola da cinque anni, la scuola è sempre stata così. Sapere che non torneremo più in questa scuola dopo cinque anni, manca così poco alla fine, sono abbastanza perplesso. Si sono ritrovati fuori dalla loro scuola ugualmente, i ragazzi della Quintà del liceo Scarpa vogliono capirne di più, chiedono l'Uni sul futuro che li attende, la stessa sindaca Scardellato si ferma a lungo per confrontarsi. Sono arrabbiati ma soprattutto preoccupati sulle spalle oltre due anni di pandemia, vissuti tra i banchi e a casa. È stata una bella batossa perché è stata una notizia così improvvisa ed è dura perché adesso dobbiamo ripianificare anche gli spostamenti, un attimo i nostri programmi e sarà una situazione difficile, un po' parallelamente alla situazione con il Covid, dall'oggi al domani ci siamo ritrovati a casa e sarà comunque difficile gestire tutto quanto. La situazione penso sarà difficile soprattutto per effettivamente chi è magari in quinta e dovrà affrontare gli esami a giugno perché dobbiamo soprattutto ripianificare anche in generale tutta la settimana della scuola. Stiamo aspettando appunto che ci mandino comunicazioni o quant'altro perché non sappiamo qual è il nostro destino, cosa dobbiamo fare e sembra un po' di rivivere quello che abbiamo vissuto col Covid due anni fa, cioè ritrovarci a casa così spaesati senza sapere cosa fare. Fa male perché nel senso è un po' un sentimento di tranquillità essere nelle classi con tutte le altre classi, girare, stare in colidoi ma anche stare in classe con i propri compagni che hai condiviso anche dei momenti particolarmente difficili come tre anni scolastici di DAD. Da qui l'appello alle istituzioni a fare presto ma anche ai compagni di scuola più piccoli. Io vorrei fare un appello ai ragazzi di prima e seconda della nostra scuola, ragazzi se ci state guardando tenete duro perché sappiamo che saranno tempi difficili, lo sono per noi che siamo in quinta, abbiamo vissuto il periodo di Covid e è stato già terribile, c'è arrivata questa sventura, comunque la supereremo con spirito di ottimismo, voi di prima e seconda non avete fatto male a scegliere questa scuola, anzi siamo contenti e continuate, non demordete mai. Grazie.